Bene, è stata una partita molto dura, è evidente che abbiamo contratto una corazzata, una squadra difficilissima da affrontare soprattutto in questo momento. Abbiamo fatto un primo quarto dove abbiamo fatto alcuni regali che purtroppo non ci hanno fatto stare così vicino come volevamo essere. Abbiamo fatto un ottimo terzo quarto e un buon inizio di quarto. Questo deve essere assolutamente questi 25 minuti che abbiamo fatti di ottima difesa, di grande attenzione e soprattutto di grande lotta devono essere assolutamente la base su cui ripartire. Abbiamo una partita basilare per noi, una partita sabato nel quale dobbiamo mettere dentro tutta la nostra voglia e tutta la rabbia per finalmente trovare la prima vittoria.